Sostituiamo il primo bilancio di questi mesi dovuti all'emergenza Covid. Sì, l'emergenza Covid ha travolto il nostro territorio come tutta la nazione e il mondo, però insomma dobbiamo dire che siamo abbastanza soddisfatti perché siamo riusciti in breve tempo ad allestire 86 posti retro dedicati, a reclutare il personale che serviva, a fornire ai cittadini delle affusinate tutte le opportunità diagnostico-terapeutiche che potevano avere ovunque anche farmaci sperimentali e con dei buoni risultati abbiamo zero positivi anche oggi da diversi giorni, quindi abbiamo contenuto tutta questa data anche perché siamo andati a caccia dei positivi con una politica già iniziata dal dottor Lorusso, direttore generale di questa azienda che adesso è il Ministero della Salute, di ricerca attiva e questo è molto importante perché al di là dei pazienti che arrivano in ospedale in condizioni gravi e poi coglierli inizialmente ci consente di non avere focolai nel territorio. Quindi insieme ai tamponi adesso stiamo facendo dei test sierologici tra tutta la popolazione a rischio, sia gli operatori sanitari che abbiamo già finito, le forze dell'ordine, e adesso inizieremo invece i vigili urbani, la Polizia Municipale di tutti i comuni, il Tribunale di Cassino e di Frottinone e poi prima di inizio le scuole stiamo per fare tutta una campagna di test sierologici sia al personale docente che al personale di supporto delle scuole che è molto importante per la riapertura e quindi insomma confidiamo di riuscire a tenere sotto controllo questa situazione e quindi di poter ripartire con tutta l'attività normale. Si parla di riorganizzazione, come intonete rinnovare la filiera degli ospedali? Allora la filiera degli ospedali durante il periodo Covid ha funzionato molto bene in maniera integrata perché lo Spaziani era il presidio Covid, quindi ricoverava tutti i pazienti e i sospetti e gli altri ospedali hanno lavorato a scacchiera per garantire invece la ricezione e l'accettazione di tutti i non Covid. Adesso la situazione è ritornata a posto perché nell'ospedale Spaziani non abbiamo più pazienti Covid ma siamo sempre pronti a riattivare tutto quello che abbiamo attivato al primo emergere del picco epidemico e quindi anche delle unità operative che erano state spostate negli altri ospedali sono tornate e quindi diciamo che dal punto di vista ospedaliero tutte le strutture hanno di nuovo ripreso l'attività come in epoca pre-Covid ma considerando che siamo ancora in periodo Covid e quindi non possiamo avere la stessa organizzazione precedente perché dobbiamo avere il distanziamento, dobbiamo avere i percorsi di valutazione quindi il pronto soccorso rimane sempre con la tenda pre-triage, il percorso doppio e quindi la necessità di valutare all'ingresso tutti i pazienti per non riniziare questo. ok